Il Dottore Il Dottore è un obbligo di legge, ci vuole un dottore E non capito E non capito, è un obbligo di legge, ci vuole un medico Ci vuole un medico Chiamatele a loro Poi qua si caerà a piazza Poi chiamate il medico Ma la signora è la titolare La gente cae fissa tutti i giorni Si cae anche te Si cae tutti Ci fanno un bagno fissa Ci sta l'ufficio Le donne, dove cae? Dove si lavano la pasta? Ha ragione Ragazzi, è civiltare questo Non è mia nulia, è civiltare C'è un bagno chimico perché c'è 30 persone lì che fanno sciogliere la pasta Non è avventato un bagno chimico Ma dai, fatti il filmato che lo vedi? e in che condizioni ci avete messo guarda in che condizioni ci avete messo fate venire il sindico a chi vi pare fate venire le forze armate fate venire i carri armate fate venire le ruspe fate venire tutti i vostri comandosi fate venire a tutti quanti fate venire a tutti quanti ti avete costretti a farmi questo gesto capito arriva Romagni io sapevo che la coppia 600 si può chiamare bagni e due cuore no ma si ma allora ti ho fatto la ricetta con me è scoperto che tu le vada